Siamo in una città futuristica Però mi serve un'arma Questa roba non si distrugge però Questa roba non la si distrugge Magari uccido le persone Magari c'è qualcosa qua sotto Allora fammi vedere un attimo Se io ti sparo questa roba No Lo posso beccare il koala Il koalino Il koalino bello Io me ne vado via Il koalino bello sinceramente no Il koalino bello sinceramente no Tron bike Golosa Sono diventato Sono diventato un cervo volante Non so come chiamarlo Ma così faccio Ma sono criminale Ma sono criminale Ma che viene su No no Ti pre... Un uomo Un uomo peccolo Ah ok Beh c'è solamente un problema Io non sono risaltito C'è un'isola che posso visitare qua in cima Oh c'è qualcosa ma che posso prendere Che c'è qua aspetta 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 Qua c'è qua in cima Cos'è sto robo Bro ma cos'è Mi sono attaccato una cosa al culo Non capisco perché L'uomo peccolo è questo Il peccoroide umano è qui Porca giuda Ste pistole Fan schifo Ste pistole Manco le pecore Ammazzano Devo andare a prendere Qualche altra arma più potente Spero me la dia lui Ma perché sta menando le pecore Ah lui crea le... Ah ok ok Lui crea delle pecore Le fa alla vecchia maniera Le fa alla vecchia maniera Diretto così Alla vecchia maniera Almeno gli faccio un po' di male così Insi così Che picchi a botte A botte si fa tutto A botte Oh però leva A botte a botte A botte così E si accoppa male Omega bu Se fiatele Ormai è morto Ormai è morto Ma che manca poco Ma che manca pochino E ci muore E ci muore Ok Perfetto Ok sono rimaste solamente le pecore demoniache No ma Cioè con calma Nel senso Ma l'uomo pecore è fortissimo Sarà che c'è un'arma che va veramente schifo Quindi per quello Ma era veramente un botte più forte Ma tipo troppo Io voglio sconfiggere i coala Allora io se trovo un'arma buona Provo a respirare i coala Mi sembra un'arma nuova Questo? Ah Ok Ok Ho tipo lancia granate mi sembra Questo lo si fa per il content Ok sto diventando mia madre Non capisco perché Mo' arriva qualcuno di cattivo Abbiamo un orso criminale a bordo della pula masch- Abbiamo un problemino Abbiamo un problemino Insomma Eccole qua Eccole qua Eccole qui Eccole qui Porco giù la vidisco Eccola ultra final boss Omega Adesso sono un bel po' resistenti Bro Bro con caldo E poi tra l'altro Io posso anche volare In un modo più domone che sta lì sotto Vado sopra Vado sopra le guardie Che male No è tornato lui No ti prego basta Ti prego basta Ti prego basta Cioè no Cioè proprio basta Mi ha scopato Il senso di questa cosa alla fine è essere una capra Cioè un cervo e Avere i problemi di famiglia E Fare cos'ha una villaglia Che male Cos'ha una villaglia E' su canna fine della storia e questo Questo cosa stanno facendo Vi ho messo le corn Posso diciamo adeptare la gente Posso renderla mia schiava Così semplicemente Posso avere gli adepti Posso avere tutti gli adepti che voglio Governare questo paese con degli uomini Cervo Allora Devi andare a distruggere un'altra casa La casa del polpo La casa del fortunissimo polpo Così arrivano gli sbirri Easy così Bombardate sta roba Voglio la pazza pula Ok Boss finale adesso Ok C'è il coniglia L'ipopotamo Ok Va bene Abbiamo un ipopotamo Va bene Va bene Ok Sì Sì Sono d'accordo Sono d'accordo Brother Abbiamo un problema Io ho solo mezzo cuore Io ho solo mezzo cuore divino E c'è il tipo che mi ha letteralmente No vabbè Però ho fatto un po' male Perché io devo farmi la vita Quanto di salto Oh mio dio Questo no Lo ho decorato no Lo ho decorato no però Ne è proprio comodo Sinceramente Con il bene possibile Cioè io devo fare fuori subito questo Avevo a far fuori subito il boss Così non c'ho fino a venga in mezzo Abbotto il boss è morto Abbiamo le fottutissime pecore C'è un fottutissimo crelice Che gira qua sopra Che provo a scendere Sono mezzo morto Ti fa tutta in aria qua Vabbiamo gli pecore Vabbiamo l'altro 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 è morto quello è morto mi mancano pochi forse la faccio è morito l'uomo pecora veramente l'uomo pecora è assurdo la uccisa che l'uccisa perfetto questo è lui è morto puliti puliti così è stato il vietnam ci abbiamo distrutto tutto ho trovato qualcosa di magnetico ma penso che lo faremo un'altra volta io direi che per oggi vi posso accontentare di quello che abbiamo fatto siamo diventati delle pecore cibernetiche